ciao grandi siamo in macchina in macchina con mia sorella e i nipotini che ci stiamo dirigendo verso la pista dei cocard un salutino salutino ciao grandi e lì dietro e si è adesso andiamo verso la pista dei cocard e proveremo a vedere se girano perché il tempo non è bellissimo quindi vediamo un po cosa riusciamo a concludere e proverò a fare dei video un po cosa riesco a fare tirano fuori ok a dopo grandi aspetta perché dico grandi perché io mi rivolgo a tutti quelli che mi seguono che mi vedono su internet capito eh sì eh eh sì dico grandi perché tutti quelli che mi seguono sono grandi capito ecco avete riconosciuto la voce adotto grandi ciao ciao oh 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 Eh sì. Proveremo a vedere se girano perché il tempo non è bellissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo arrivati qui al parcheggio, abbiamo appena parcheggiato. Adesso ci dirigiamo verso la pista per vedere un po' che cosa riusciamo a vedere se girano. Ma c'è veramente poca poca gente, perché il tempo è brutto. Fino a circa un'oretta e mezza fa pioveva. Quindi prendiamo un po' qualcuno. Adesso farò un po' di video. Arrivederci. Ok? 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 un giovane anziano sul toccar che va abbastanza spedito non arrivano alcuni che sono abbastanza spediti ecco linda, è andato a far l'istorante il quad è per spostarsi più velocemente meno male sono nelle curve più in che escono questa è in questa che c'è qui proprio lì di fronte è un po' a gomito ed è facile che tanti escono se non la si sa prendere bene poi a parte che questi sono cocarde molto molto alla buona sono molto piccoli dovrebbero essere dei 48 credo di cilindra ciao grandi ciao ciao salutino ciao grandi è lì dietro ciao 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 ciao